Non soltanto abbiamo inserito l'autismo nell'EA, ma abbiamo anche predisposto un meccanismo che vale per l'autismo e anche per tutte le altre prestazioni sanitarie su cui interveniamo, che verrà aggiornato ogni anno in base alle nuove scoperte, alla ricerca, all'innovazione, credendo fortemente che dobbiamo dare una risposta articolata e multifattoriale, non una risposta univoca ma un insieme di risposte che mettono al centro di un'azione integrata il bambino, l'adulto, quando poi il bambino diventa adulto, e la sua famiglia. La famiglia è fondamentale in tutte le patologie, ma questa ancora di più, ed è importantissimo che la famiglia sia inserita in un progetto terapeutico che deve essere multidisciplinare e personalizzato. E vorrei sottolineare l'importanza del vostro convegno nel quadro del portare avanti le due stelle polari che devono, credo, animare tutti quanti che lavorano in questo campo. L'interesse dei cittadini, ovviamente, l'interesse dei pazienti e l'evidenza scientifica. Soltanto portando avanti contemporaneamente e privilegiando questi due aspetti si riusciranno a raggiungere dei risultati insieme. Dire che su 8 milioni di bambini, 9 milioni, abbiamo 1.350.000, e di cui, lo dico perché, i famosi 300.000 dislessici, e questo do la colpa non a chi l'ha detto, ma a chi l'ha seguito, e noi psicologi, sono dichiati tutti ad origine genetica, come se ci fosse un'alterazione nel loro cervello. Quando la stessa sintomatologia è in misura estremamente superiore, cioè 4-5 volte tanto, l'abbiamo solo nei bambini che vanno a scuola un anno prima, semplicemente per immaturità. Adesso abbiamo l'altro problema, 0-10 anni, adesso c'è molto sottile, ma molto forte, l'indicazione che abbiamo bambini 0-10 anni, la malattia mentale nel 15% dei casi. Ma pensare che ne abbiamo 2 milioni su 8 milioni, significa che ogni 4 bambini, pensare che un bambino abbia o una malattia mentale o c'è qualche cosa. 2 milioni è un esercito, lo assicuro. Ma lui l'ha detto prima ancora, cioè perché lui l'ha detto stiamo andando in quella direzione. Lui è un, per chiarità, un filosofo della scienza. Questo è uno dei più grandi e illustri clinici internazionali, che dice non credo vi sia realmente un momento epidemico dei disturbi mentali. Penso invece che ci troviamo nel mezzo di un'epidemia di diagnosi superficiali e di pratiche prescrittive poco rigorose. L'acronimo TULIP sta ad indicare l'inizio di tre test che sono stati utilizzati, sono il TCA, il UOI e la LEITER, come indicatori appunto di predittività. È un protocollo che ha individuato degli indici predittivi che consentono di definire una categoria di autismo, cioè di bambini, che monitorati in quattro anni hanno mostrato, grazie a questi indici predittivi, no grazie, in virtù del fatto che noi avevamo potuto evidenziare questi indici predittivi, che hanno dimostrato un cambiamento, si sono dimostrati sensibili a un trattamento, a un approccio evolutivo, modificando la loro sintomatologia, fino ad arrivare in alcuni casi a una diagnosi di non autismo secondo la classificazione ADOS. Quindi anche se c'è il punteggio ADOS, noi non possiamo attenerci soltanto al punteggio per fare una diagnosi. Dunque, lo strumento più affidabile che in questa fascia di età possiamo avere è il giudizio clinico basato su un corpus di conoscenze che è più ampio di quello previsto dalle linee guida. Siamo obbligati di fronte a bambini piccoli ad osservare per comprendere, interagire per attivare le loro risorse e intervenire per abilitare o riabilitare. Fino a non tantissimo tempo fa questa era la famiglia tipo, vedete c'erano due genitori con 16-17 figli, quindi c'era proprio una realtà completamente diversa, c'era la delega del fratello minore e del fratello maggiore, ma c'erano anche questi dati. Noi avevamo una mortalità del 30% infantile e poi avevamo una natalità molto importante, ma l'altro aspetto molto interessante è quella che è stata la piramide demografica che vedrete che è cambiata significativamente. Cala la mortalità, aumenta l'aspettativa di vita e quindi di fatto abbiamo una popolazione che è progressivamente sempre più vecchia, sempre più anziana e questo è un altro dato che dobbiamo prendere in considerazione. Il motivo per cui abbiamo privilegiato da sempre l'approccio evolutivo è il fatto che anche le ultime periodi dello sviluppo, peraltro suffragate dalle neuroscienze, sottolineano la centralità della dimensione affettiva come impalcatura per tutte le successive evoluzioni. Quindi il nostro è un approccio evolutivo psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come principale strumento della terapia. Diciamo da oltre dieci anni il nostro lavoro, che era comunque presente già da molti anni in precedenza, è stato sistematizzato all'interno di un progetto che abbiamo voluto chiamare Tartaruga per indicare proprio il senso non qualcuno ha pensato perché c'è la corazza, no perché va piano ma lontano e in questo progetto noi lavoriamo tantissimo soprattutto inizialmente attraverso la corporeità in vari setting che abbiamo cercato di potervi mostrare oggi, ma c'è anche un grandissimo lavoro che viene fatto con genitori, avremo delle relazioni sia con i genitori da soli sia genitori insieme ai bambini. Dopo quattro anni, 31 su 80, sono usciti dalla classificazione diagnostica. Di questi 31 bambini, 13 appartenevano al gruppo dello spettro autistico e 18 al gruppo dell'autismo e 14 bambini sono passati da autismo a spettro.